Tutte le coppie hanno recuperato i bicchieri. Non resta che l'ultimo sforzo da compiere per poter raggiungere il tappeto dell'arrivo finale. Bisogna seguire la tradizione dei lavoratori del porto di Aivalik e tornati a terra bere un bicchiere del famoso Raki. Questo sarà alcol, no? Se è alcol o non è alcol si beve. Ok, una saloria. Vai, come vodka, non sentire. Perché vodka si beve così, deve tirare fuori l'aria e poi... Buono, certo. Come quando eravamo giovani i vecchi tempi. Conto blanco. I dipendenti stanno arrivando. E sto da tanto male. Attenti tutti, stiamo arrivando. Fortissimo, io sono totalmente ubriaca. Tu? Ah che bello. Dritto, dritto, qua. Porta la cuglia un pozzo d'alcol. Guarda come volo con Raki. Grande cristo. La bandiera è a me, ragazzi. Dai, Costa. Dovrete saltare insieme. Ciao, ciao. Ben arrivati, ragazzi. I fidanzatini. Ben arrivati al traguardo finale della terza tappa di Pecino Express. Ce l'avete fatta. Grazie. Come è andata? Non lo so. Ma secondo voi siete arrivati prima o dopo le lepri? Sicuramente dopo le lepri. Sì, forse sì. Finger crossed. Benvenuti. Grazie, grazie. Brava l'amore. Eh, oddio. Oddio. È andata lunga. È andata. Non ce la faccio più. Non ce la fai più. Con chi me la sostituisce? È stanca. È stanca. Ha, 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 ha.